Tratto da una storia vera. Il prima di Vurete 4. Sponda! Un momento, vedo una donna e un ragazzino a 200 metri. Regia di Clint Eastwood. Trasporta qualcosa. Una granata, una RKG rossa, l'ha data al ragazzino. Bradley Cooper. Conosci la regola d'ingaggio, decisione tua. Se sbagli lo sai, vecchia la corte marziale. Sienna Miller. Per i bellissimi. American Sniper. Domenica 21-25.